Antonio Corvetta, primo essordio stagionale per la cucina e l'Uber rinnovata, come ti sei trovato a gestire questi nuovi compagni, in particolare Sokolov direi? Beh, gestire Sokolov è un problema che vorrebbero avere in tanti, credo. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon test contro una squadra che gioca bene a pallavolo, abbiamo cominciato a sentire un po' la fatica nell'ultima parte, stiamo lavorando anche molto fisicamente. Io sono abbastanza contento della mia condizione fisica, perché mi ricordo in questo momento un anno fa che ho avuto un infortunio molto brutto, ho fatto una preparazione con parecchie difficoltà, quindi aver giocato oggi tutta la partita e sentirmi a mio agio in mezzo al campo, insomma, è un buon feedback. Dopo un mese di lavoro ci voleva un po' di amichevole, un po' di campo e di pur agonismo per sciogliere un po' anche i muscoli. Sì, bisogna trovare gli automatismi, bisogna testarsi anche dal punto di vista dell'agonismo, quindi benvengano queste partite. Tra una settimana l'Ulube replicherà altro derby a Castelferretti alle otto e mezzo di venerdì sera contro Porto Potenza Picena, sicuramente ci sarà un qualcosina in più in campo? Beh, cercheremo di presentarci un po' più brillanti, magari dal punto di vista fisico e di fare qualche passo avanti anche dal punto di vista tecnico, magari qualche errore diretto in meno, insomma, questa fase sicuramente fare meno errori aiuta a sviluppare più volume di gioco e quindi a stare un po' di più in campo.